Il Presidente della Regione, Giovanni Totti, ha chiesto alla Commissione del Consiglio regionale una modifica allo statuto per istituire tre sottosegretari da affiancare agli assessori con più deleghe. Si tratta del primo atto formale su una questione su cui si è già tanto dibattuto. In pratica il Governatore ha chiesto la modifica dell'articolo 41 bis che permetterebbe l'introduzione dei sottosegretari. La loro indennità sarà fissata poi con un'apposita legge regionale, una decisione che aveva già scatenato numerose polemiche per la spesa che avrebbe comportato. Secondo il Presidente Totti però non sarebbero stati tre stipendi a danneggiare la Regione e sarebbero invece maggiori i danni derivanti dall'oberare di lavoro assessori già molto impegnati. Il Governatore ha poi ricordato come nella passata legislatura, prima della riforma Monti, la Giunta della Liguria fosse composta da 12 assessori più il Presidente. Oggi invece è di soli sette assessori più il Presidente. Quelli che potrebbero essere affiancati dai sottosegretari sono gli assessori Edoardo Rixi, Ilaria Cavo e Gianni Berrino.